vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di uninettuno in programmazione sicurezza della facoltà di ingegneria scegli il meglio costruisci con successo il tuo domani iscriviti all'università telematica internazionale uninettuno con uninettuno l'università viene da te l'università da guardare sfogliare navigare ovunque tu sia per saperne di più www.uninettunouniversity.net uninettuno nel futuro da sempre